ciao a tutti allora iniziamo con la preparazione della ricetta preparando appunto la base della nostra crostata per cui in una ciotola versiamo la farina, lo zucchero, l'uovo, il curcuma con un pizzico di sale e il burro vi consiglio di lavorare appunto l'impasto all'interno appunto con la posata all'inizio dopo di trasferire il tutto sul piano e lavorarlo con le mani anche che appunto diventa un pochino più complicato lavorarlo solo con la posata dobbiamo ottenere un bel panetto morbido, liscio e asciutto non appiccicoso ecco io adesso comincio già a utilizzare le mani eccolo qua vedete questo è il mio panetto morbido, liscio e non si appiccica le mani adesso lo volvo con la pellicola trasparente e lo lascio riposare in frigo per circa 15 minuti nel frattempo che il nostro panetto riposa prendiamo i nostri petali di calendula la calendula è un fiore super conosciuto che si può utilizzare non solo in cosmetica però anche esempio in cucina si può utilizzare tantissimi piatti ad esempio anche la pasta fresca fatta con i petali di calendula la rende super colorata ok adesso prepariamo la crema di latte allora in una ciotola versiamo lo zucchero l'amido mescoliamo bene la buccia grattugiata di un limone i nostri petali latte i cuorli e il succo di limone amalgamiamo bene gli ingredienti direi che anche la crema di latte è pronta adesso la lasciamo da parte e prendiamo il nostro panetto del frigorifero allora io ho già preparato uno stampo a cerniera ho inserito alla base un foglio di carta da forno che mi agevolerà dopo una volta che la torta sarà pronta per trasferire appunto nel piatto da portata adesso stendiamo il nostro panetto è un panetto molto morbido quindi riusciamo a lavorarlo benissimo anche così altrimenti se volete potete altrimenti stendere l'impasto col mattarello come preferite cerchiamo di creare un bordo alto almeno un centimetro perché come noterete la crema di latte è veramente liquida altrimenti rischiamo che vada fuori tutto dal bordo quindi un centimetro di altezza assolutamente dobbiamo lasciarlo vedete avendo messo il curcuma veramente viene bello colorato è una costata veramente bella colorata ecco direi che ci siamo rifinisco un attimo i bordi ecco qua vedete e versiamo la nostra crema di latte adesso metteremo in forno e lasceremo cuocere a 180 gradi per circa 20 minuti 20-25 minuti eccola qua questa è la crostata alla calendula vi garantisco è veramente molto molto buona se vi è piaciuta la mia ricetta mettete un pollice in su se avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale mi trovate anche in facebook e in instagram non mi resta che salutarvi e ci vediamo alla prossima ricetta ciao a tutti ciao a tutti